Le applicazioni di intelligenza artificiale e generativa si stanno moltiplicando ogni giorno che passa, tanto che è diventato difficilissimo intercettarle e provarle tutte. Io ne ho testato oltre 100 e ne ho selezionate 10 che sono gratuite e utilissime per il lavoro di marketer e creator. Vediamole insieme. Le applicazioni per generare testo nuovo partendo da descrizioni testuali sono ormai ovunque. Io ti ho già parlato di ChatGPT in un video precedente sottolineando le opportunità per i marketer. Questa volta ti voglio parlare di Copy.ai, accessibile all'indirizzo copy.ai. Si tratta di un servizio pensato per la generazione di contenuti in maniera semplice e rapida. Lo si fa usando l'interfaccia conversazionale, quindi chiedendo assistenza ad un chatbot oppure più velocemente partendo da template. Ci sono template per ogni cosa. Articoli lunghi, post per i social media, script per i video, copy per gli annunci pubblicitari, siti web e tanto altro. Copy.ai permette anche di scegliere il tono da utilizzare nella scrittura. Amichevole, professionale, persuasivo, empatico e così via. Il tool si può usare gratuitamente ma in questo caso c'è un limite ai contenuti che si possono generare alla lingua che è l'inglese. Per usarlo in italiano bisogna fare l'abbonamento. Il secondo tool che ti presento oggi fa parte di quelle applicazioni che servono a generare immagini a partire da descrizioni testuali. Ti avevo già parlato in un video precedente di MidJourney che rimane il mio preferito in assoluto. Oggi ti presento un servizio più semplice da utilizzare ma molto potente. Si chiama Dream Studio ed è accessibile dal sito dell'azienda Stability.ai. Si basa su un modello di generazione immagini chiamato Stable Diffusion rilasciato in modalità open source. Quindi Stable Diffusion si può installare sul proprio computer oppure usare attraverso Dream Studio. Per creare un'immagine basta scrivere una descrizione in inglese di quello che si vuole. Nella colonna di destra si possono scegliere i parametri desiderati. Tra questi le dimensioni, il valore di CFG più alto è e più l'immagine sarà vicina alla descrizione, il modello diffusivo che si vuole usare. Qui ti consiglio di fare varie prove perché ogni modello ha le sue caratteristiche. Il terzo strumento utile se lavori nella creazione di immagini si chiama Clip Interrogator. Quante volte ti è capitato di trovare in rete un'immagine bellissima che vorresti riprodurre con gli strumenti dell'intelligenza artificiale ma non sai come fare. Ecco, Clip Interrogator ci viene in aiuto proprio in questo. Tu carichi l'immagine e lui ti dà come risultato il testo che potrebbe averla generata. In più, nella sezione Analyze si può far analizzare un'immagine e ottenere dettagli sulle keyword che potrebbero essere utili a generare qualcosa di simile, suddivise per tipologia, artista, movimento e così via. Ottenute queste informazioni si possono usare come prompt in Mid Journey, Dali, Stable Diffusion e altri. Il quarto tool che ti faccio vedere si chiama Supa Res. È un servizio che permette di migliorare le immagini e le foto in vari modi. La funzione principale, come si intuisce dal nome, è quella di incrementare la risoluzione di immagini piccole, ad esempio per portarle ad una dimensione utile per la stampa. Oltre a ciò si possono migliorare foto a bassa risoluzione aggiustando il tono, l'illuminazione di foto buie o eliminando artefatti e rumore. Si può usare gratuitamente per un numero limitato di operazioni e per ottenere una risoluzione di massimo 64 megapixel. La quinta app che vediamo è molto utile se lavori con i video. Si chiama Runaway ed è un software di editing potenziato dall'intelligenza artificiale. La versione gratuita permette di gestire tre progetti, di esportare video ad una risoluzione massima di 720p e di eccedere ad un numero limitato di funzioni di intelligenza artificiale. Tra questi, quella che permette la rimozione del background, la colorazione di un video sulla base di una semplice descrizione e l'inpainting che permette di eliminare persone indesiderate dai video. Runaway è anche in prima linea nel campo della ricerca ed ha presentato Gen 1, un sistema che promette di rivoluzionare la produzione di video. Si potrà cambiare lo stile di un video sulla base di un'immagine di partenza, trasformare degli oggetti usati come modello in qualcosa di diverso, aggiungere elementi ai video con una descrizione testuale o renderizzare un modello tridimensionale scarno. Infine si potrà personalizzare il modello per risultati più complessi. La sesta app che ti presento si chiama Kyber e permette di creare delle piccole animazioni in maniera molto semplice e veloce. Basta andare su kyber.ai, registrarsi e partire con il caricamento di un'immagine, poi si descrive cosa si vuole ottenere ed il gioco è fatto. Si passa alla definizione della durata, delle dimensioni, dei movimenti di camera e in pochi minuti si ottiene il video. La settima applicazione basata sull'intelligenza artificiale che vediamo si chiama Flicky e permette di creare dei video utilizzando delle voci artificiali. Per esempio si può importare un blog post già scritto, scegliere le immagini di accompagnamento, la voce più adatta alla lettura tra le oltre 900 disponibili in 75 lingue, aggiungere il tono emotivo più adatto ai vari passaggi e infine completare con un tappeto sonoro e il video è pronto per l'esportazione. L'ottavo strumento che ti presento si chiama Descript e permette di editare un video o un audio senza avere competenze di montaggio. Il sistema può eliminare tutti i suoni sgradevoli tra le parole e migliorare la qualità dell'audio, ma la cosa impressionante è che dopo aver trascritto l'audio automaticamente ci permette di cancellare le parole inutili e queste modifiche si rifletteranno immediatamente sul video, quindi un montaggio video basato sulla correzione del testo. Inoltre una funzione strabiliante è quella chiamata Overdub, ancora non disponibile per la lingua italiana, che permette di clonare la nostra voce e quindi usarla per modificare un video, sempre semplicemente scrivendo. Il nono strumento che ti presento è una perla tenuta ben nascosta da Adobe. Si trova all'interno del sito podcast.adobe.com e si chiama Inance Speech e serve a migliorare la qualità di file audio. Se hai un file registrato in un ambiente con reverbero, rumori di fondo, magari con un microfono non eccellente, basta caricarlo sulla piattaforma per ottenere una versione ripulita da tutte le imperfezioni, come fosse registrata in uno studio. Allora vediamo come funziona Adobe Podcast, vediamo se riesce a migliorare questa mia registrazione. L'ultimo servizio di cui ti parlo si chiama Mubert ed è un primo passo verso la musica generativa. L'interfaccia di Mubert.com è molto semplice, basta scrivere un prompt e stabilire la durata del brano per ottenere una traccia originale. Proviamo! Un altro metodo è quello di scegliere tra le impostazioni predefinite, un genere musicale, un mood dal divertente al romantico o un'attività dalla meditazione alla corsa. In base alla selezione il sistema genererà la traccia che potrà essere usata per progetti personali indicando l'attribuzione Mubert. La versione gratuita permette di generare 25 tracce al mese e di scaricarle solo in formato compresso MP3. Bene, siamo arrivati alla fine. Se ti va di provare qualcuno di questi strumenti o se ne hai altri che già conosci e che già utilizzi, fammelo sapere nei commenti. Se poi vuoi rimanere aggiornato sulle novità dell'intelligenza artificiale generativa, ti basta iscriverti al canale. Alla prossima!